Campania. La Giunta della Regione Campania ha approvato il Programma Regionale Quinquennale per l'attuazione delle linee strategiche prioritarie connesse all'implementazione del Piano Oncologico Nazionale. A renderlo noto con una nota stampa è il consigliere regionale Tommaso Pellegrino. Il Piano prevede una serie di interventi mirati a migliorare l'assistenza dei pazienti oncologici. Il primo punto si pone l'obiettivo di potenziare l'identificazione, la valutazione del profilo di rischio genetico e la presa in carico dei soggetti con alto rischio di tumori eredo familiari. Questo permetterà di fornire una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo ai pazienti, migliorando significativamente le loro prospettive di guarigione. Su www.lavocedelmeridione.com la nota stampa.